Buonasera amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di un fatto di cronaca perché c'è stata una rapina al supermercato Conad di Corso Garibaldi a Isernia, proprio di fronte al tribunale. Un uomo incappucciato e armato di pistola ha intimato al cassiere in servizio di consegnargli tutto il denaro contenuto nelle casse del punto vendita. Un bottino di circa un migliaio di euro. L'uomo dopo aver preso i soldi si è allontanato su un'auto con un complice alla guida che lo attendeva fuori del supermercato. Le indagini sono a cura dei carabinieri di Isernia che hanno subito predisposto posti di blocco su tutto il territorio provinciale. Parliamo ora di politica perché Frattura ha nominato Massimo Pillarella, suo ex socio, rappresentante unico della regione nella conferenza di servizi chiamata a occuparsi della realizzazione del tunnel di collegamento tra il porto e il lungomare nord di Termoli. Tra le opere affidate alla conferenza anche il parcheggio multipiano interrato. Intanto in città i comitati continuano a chiedere a gran voce il referendum sul progetto. Ce ne parla Pasquale Di Bello. Oltre al Polpo Pol, quello famoso che ai mondiali di calcio del 2010 in Germania si divertiva a pronosticare i risultati delle partite, ne esiste un altro meno conosciuto ma altrettanto tentacolare. Il Polpo Paolo è di professione fa il presidente della regione molise. La sua longa manus, o se preferite l'estensione dei suoi tentacoli, è talmente ampia che da Campobasso è arrivata fino a Termoli. Con la recente delibera di giunta, la numero 145 del 24 aprile scorso, il presidente, sempre più protempore della regione molise, ha messo letteralmente le mani sulla cittadina adriatica. Con la espressa necessità di accelerare i tempi, messa nero su bianco nel provvedimento, Frattura ha nominato rappresentante unico della regione nella conferenza di servizi chiamata ad occuparsi del tunnel di raccordo tra il porto e il lungomare nord, nonché del parcheggio multipiano interrato previsto in località Pozzodolce, l'ingegnere Massimo Pillarella. Ora, se Pillarella fosse solo ingegnere, il problema non si porrebbe. Chi sia invece Pillarella è noto da tempo. Stiamo parlando dell'ex socio di Paolo di Laura Frattura, nella Proter, la società che si occupò dello studio di fattibilità della metropolitana leggera, infrastruttura multimilionaria tanto cara al cuore del presidente della regione. Sempre Pillarella era nel nucleo di valutazione per le agevolazioni integrate per le imprese industriali, quello che assegnò a Paolo di Laura Frattura i 265 mila euro per la Biocom, soldi mai tornati nelle casse della regione, nonostante l'opera non si sia mai realizzata. Pillarella, inoltre, è sempre lo stesso che nel febbraio 2016 fu nominato direttore generale della regione molise e successivamente, quando tale figura venne abolita, è diventato direttore del quarto dipartimento della regione. Inoltre, sempre a Pillarella, è andato il ruolo di commissario regionale per l'azienda Molise Acque. Come se non bastasse, ora a Pillarella viene assegnato anche il ruolo di rappresentante unico in seno alla conferenza di servizi chiamata a governare quel processo di riqualificazione urbana di Termoli che, se non ha scatenato la guerra civile in città, poco ci manca. La contrapposizione tra l'amministrazione del sindaco Sbrocca e i comitati che chiedono a gran voce un referendum che consenta ai cittadini di esprimersi sull'opera è ormai frontale da mesi. Adesso, come se i guai in città non fossero abbastanza, a Termoli arriva anche Pillarella, che nel frattempo, preso dalla incontenibile bulimia di popolarità e incarichi, è apparso in una grotta Betlemme lasciando già capire le proprie intenzioni per il futuro. Non si spiegherebbe, infatti, se non con l'aspirazione a vice padre eterno, il fatto che la delibera che assegna il nuovo ruolo a Pillarella sia preceduta da un documento istruttorio a firma dello stesso Pillarella e approvato dal direttore del quarto dipartimento della regione che è sempre lo stesso Pillarella, 1 e Trino. Sono passati i cinque anni dalla grande nevicata del 2012, ma le polemiche sui mancati rimborsi continuano. Questa volta sono l'ex presidente Iorio e l'attuale frattura che se le danno per modo di dire di santa ragione. E ce ne parla Enzo Di Gaetano. Emergenza neve 2012. Le nuove accuse contro una regione che non mantiene le sue promesse partono ancora una volta dai sindaci di ben 37 comuni che chiedono a Frattura di liquidare le spese sostenute per liberare le strade e le abitazioni che rimassero isolate cinque anni fa. A nome di tutti e 37 i sindaci in questione, Luciano Bucci e Giacomo Lombardi, rispettivamente alla guida di Conca Casale e Rocca Mandolfi, hanno nuovamente scritto a Frattura e Cotugno, sollecitando la liquidazione delle spese sostenute o anticipate dai comuni per pagare le ditte private, chiamate a fronteggiare l'emergenza neve 2012 con i loro mezzi, vista l'incapacità delle amministrazioni pubbliche a causa della carenza di uomini e attrezzature. Come è noto, tutti i comuni che hanno anticipato la liquidazione delle spese da parte della regione sono andati in rosso e adesso, con la discussione dei nuovi bilanci all'ordine del giorno, ogni amministrazione comunale si trova in grosse difficoltà. I soldi li avrebbe dovuto rimborsare la regione, ancora non lo fa in maniera completa e i comuni vanno in affanno. Da qui la lettera di Bucci e Lombardi, subito ripresa da Michele Eorio, che a nome delle minoranze ha giustamente chiesto a Frattura di rimborsare i comuni per i soldi anticipati nel 2012 e, dove non sono stati anticipati, provvedere al saldo di quanto dovuto alle aziende private che reclamano il pagamento di fatture emesse ben cinque anni fa. Un appello quanto mai giusto, giustificato e condivisibile, a cui ha fatto seguito la velenosa risposta di Frattura, che ha accolto l'occasione per accusare Eorio di aver promesso ai comuni il ristoro delle spese sostenute per lo sgombero neve. Sostanzialmente per l'attuale governatore, Eorio avrebbe sbagliato a garantire ai comuni la copertura dei costi legati all'emergenza, costi necessari a liberare le strade, raggiungere le abitazioni isolate e a salvare vite umane. Cosa aggiungere? La risposta di Frattura si commenta da sola. Secondo l'attuale presidente, Eorio sbagliò a promettere rimborsi. Possiamo solo immaginare cosa avrebbe fatto Frattura nel 2012 al posto di Eorio. Nulla, non avrebbe fatto nulla, perché non c'erano soldi. Le strade avrebbero potuto restare bloccate e le abitazioni isolate. E se poi qualcuno ci rimetteva la pelle? E che fa? Capita. Non ci sono soldi. Un ritornello già sentito mille volte, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Migliaia di molisani nella povertà, ospedali chiusi, strade dissestate e gli amici degli amici che fanno festa. I soldi per loro ci sono sempre. E per finire la tragedia di Rigopiano e i suoi risvolti giudiziari. Con i pubblici amministratori indagati, almeno una cosa la insegna. La mancanza di soldi non è mai una scusante valida di fronte all'emergenza. Eorio, autorizzando i sindaci a fare di tutto per liberare strade e case, non fece bene. Fece benissimo. E in una controreplica, a sua volta Michele Iorio ha continuato ad accusare Frattura di nascondere le sue incapacità politiche dietro le menzogne. Se per il governatore, ha detto Iorio, risolvere i problemi del Molise vuol dire crearne degli altri, sono fiero del lavoro svolto dal mio governo. Anche perché se Frattura e il centro-sinistra avessero messo lo stesso zelo impiegato a distruggere la protezione civile, far fuori l'architetto già russo e licenziare i vincitori di concorso, invece di studiare, capire e provvedere ai bisogni dei molisani, a quest'ora la nostra regione e i suoi cittadini vivrebbero sicuramente in una situazione migliore. Invece il governatore rompe il silenzio sui fondi dell'emergenza neve 2012 per sottolineare le mie presunte dichiarazioni ridicole e mendaci, parla sempre Iorio, che però purtroppo per lui carti alla mano dimostrano come il disimpegno, il silenzio assurdo e vergognoso del centro-sinistra governativo abbiano condotto i comuni molisani e le aziende locali alla disperazione. Intanto c'è il progetto Giovani in Agricoltura. Dalla regione 125 concessioni, 6 milioni di euro del PSR, sono destinati all'avviamento di nuove attività. Questa mattina a Campobasso la firma Frattura ha detto. Garantito il ricambio generazionale. Il servizio è di Pierluigi Boragine. Giovani in Agricoltura, stamattina a Campobasso firmate 125 concessioni, 6 milioni di euro garantiti dalla regione tramite un bando del PSR 2014-2020. Una misura importante del programma di sviluppo rurale che consentirà l'avviamento di attività imprenditoriali nel settore agricolo con un finanziamento medio pari a circa 40 mila euro a fondo perduto, 276 le candidature, 125 le domande ammesse con una graduatoria di merito per creare nuove start-up che è stato evidenziato durante l'incontro andato in scena nel parlamentino di Palazzo Vitale che ha fatto registrare il tutto esaurito garantiranno il ricambio generazionale. Presidente, 125 nuove concessioni che cosa significano? Significa 125 nuove aziende con un straordinario ricambio generazionale. Sono 125 giovani, meno di 40 anni, circa 5 milioni e mezzo di investimento, aiuti che già prevedono già dal 10 maggio l'anticipazione dell'80% dell'investimento. I riscontri che la programmazione comunitaria serve, serve soprattutto a far crescere un territorio, una regione e un settore economico. Risorse destinate ad un settore, l'agricoltura centrale per l'economia regionale anche e soprattutto in prospettiva. Più 11% di PIL significa guardare al futuro di questo settore con rinnovata fiducia. Se si pensa che in questo momento delle 14 regioni che hanno già quale soggetto pagatore, che hanno impegnato risorse per un totale di 400 milioni di euro, la regione molise che è la più piccola ha posti in essere impegni per 130 milioni di euro, che sono il 65% del programma di sviluppo rurale, si capisce quando siamo avanti a qualsiasi altra regione d'Italia, ma non poco. Siamo avanti in fase di programmazione di tantissimo. Siamo avanti nell'attività finalizzata a migliorare l'APIL delle nostre aziende attraverso la misura 4-1 che è il miglioramento della competitività delle stesse. Siamo avanti perché abbiamo bandito anche misure che in altri territori non ancora vengono bandite. Significa che il lavoro che si è svolto insieme al partenariato in questi anni, insieme alle associazioni di categorie, insieme ai tantissimi soggetti stakeholder che hanno voluto partecipare attivamente agli incontri che noi in ogni comune e la regione abbiamo organizzato è un lavoro che comincia a dare seriamente i propri risultati. I prossimi step? I prossimi step saranno quelli di partecipare ad una misura straordinariamente importante con una manifestazione di interesse che scade il 15 di maggio per l'innovazione di prodotti di processo il cui finanziamento è per l'80% a fondo perduto. Noi vogliamo aziende agricole che facciano le cose fatte bene, aziende agricole che siano in grado di restare sul mercato con qualità e con competitività, aziende agricole che non abbiano nulla da invidiare alle migliori aziende agricole d'Europa. Se continuiamo in questo modo noi avremo indicatori di performance al 31-12 del 2017, al 31-12 del 2018 che non saranno i migliori indicatori di performance d'Italia ma saranno i migliori indicatori di performance d'Europa. Siamo convinti che piccolo come il nostro territorio possa significare capace e devo dire anche bello. La Commissione Affari Costituzionali del Senato con il parere del Governo corregge la precedente posizione assunta dalla Commissione della Camera e il Molise eleggerà il suo rappresentante nella componente dei giornalisti nel Consiglio Nazionale dell'Ordine e competerà anche per l'elezione del rappresentante nella componente dei pubblicisti. In sostanza si elimina l'accorpamento con l'Abruzzo, un buon risultato il commento dei senatori Ruta e Di Giacomo che si sono impegnati in tal senso, Ruta in particolare ha tenuto una conferenza stampa questa mattina a Campobasso e c'era per noi Tonino Danese. Al Senato è stata garantita la dignità di Regione al Molise. A sottolinearlo in conferenza stampa il senatore Roberto Ruta con in mano il parere della prima Commissione Permanente Affari Costituzionali di Palazzo Madama ha evidenziato come sia stato ribaltato il parere della Camera sulla bozza di decreto legislativo di revisione della composizione e competenze del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti. In sostanza eliminato l'accorpamento con l'Abruzzo il Molise sarà rappresentato nel Consiglio Nazionale dei Cronisti. È stato un ampio e serrato confronto ha dichiarato Ruta e ha sottolineato ancora il ruolo avuto anche dal senatore Ulisse Di Giacomo che ha partecipato attivamente. La Commissione ha detto in una nota Di Giacomo ha corretto la precedente posizione assunta dalla Camera. Il Molise eleggerà il suo rappresentante nella componente dei giornalisti professionisti e competerà per l'elezione del rappresentante nella componente dei pubblicisti. Un buon risultato raggiunto con impegno e con la capacità di rappresentare il Molise in Parlamento. Ruta, illustrando il parere, ha spiegato nel dettaglio che la Commissione del Senato, esaminato lo schema legislativo, ha espresso parere favorevole con delle condizioni importanti che nel Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti sia assicurata la rappresentanza di almeno un componente cronista professionista per ogni regione. Dunque un punto fermo per il Molise e che, poiché la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche sul territorio fa scendere a 19 il numero dei giornalisti espressi dagli ordini professionali, sia escluso tra i 20 pubblicisti eletti in ciascuna delle 20 regioni chi abbia riportato il numero minore di voti. Questo dà possibilità al Molise se si esprime con compattezza in quanto in termini numerici ha più chance della Valle d'Aosta, ad esempio la nostra regione seggio autonomo. E così si scongiura l'accorpamento con l'abruzzo estensore del parere del senatore Koliancic, ma nel documento compare anche il sigillo della ministra Finocchiaro del governo con cui si è concordato, ha detto ancora Ruta. Sono stati tutti prosciolti dall'accusa di abuso d'ufficio, il fatto non sussiste, gli indagati coinvolti in un'inchiesta relativa al concorso per l'assunzione di un vigile urbano nel comune di Castelmauro. Lo ha deciso il GUP del Tribunale di Campobasso, si tratta del sindaco Sticca e degli assessori all'epoca dei fatti Sciarretta, Boccardo e Monaco, tutti difesi dall'avvocato Mariano Principe. Il legale ha espresso soddisfazione per l'affermazione della correttezza delle procedure seguite dagli amministratori. Ennesima dimostrazione, ha commentato Mariano Principe, che il garantismo rimane l'unica risorsa per un paese civile. Tra gli obiettivi principali, riaprire la Biblioteca Albino e poi eventi nei luoghi di cultura, anche un concorso fotografico. Il direttore del Polo Museale del Molise, Ventura, ha illustrato le iniziative e gli obiettivi del suo mandato. Sentiamo Rita Iacobucci. Inclusivo, digitale, online. Il Polo Museale del Molise interagisce in maniera moderna e multiforme col territorio, che è estremamente ricco di arte e luoghi di cultura. Il direttore del Polo, Leandro Ventura, intende valorizzare questo patrimonio costruendo, dice nella conferenza stampa in cui si presenta e fa il punto sulle prossime iniziative, una rete. Vorrei cercare di valorizzare il patrimonio culturale del Molise, non solo quello statale ma anche quello non appartenente allo Stato. E non solo quello materiale, ma anche quello immateriale. Cioè cercare di creare una rete, un sistema museale, diciamo museale, ma inteso in senso ampio, un sistema che possa garantire la maggiore diffusione possibile delle informazioni e possa anche attirare i visitatori. Non solo per fini meramente economici, quindi per garantire un finanziamento anche delle attività, perché comunque i biglietti che vengono, il prezzo dei biglietti che viene pagato dai visitatori viene utilizzato esclusivamente per attività di valorizzazione. Quindi non è solamente per questo ma anche per questioni culturali. Tra le priorità c'è la riapertura della biblioteca Albino, la più grande biblioteca pubblica in regione. In base all'accordo siglato a settembre con regione e provincia di Campobasso è passata al ministero, ma il passaggio di proprietà si è rivelato più lungo del previsto. A breve però garantisce ventura, sarà assegnata proprio al polo museale che pubblicherà l'interpello per il direttore e potrà così riaprire le attività. Ma le iniziative alle porte sono tante. Il 20 e il 21 maggio, per esempio, la giornata internazionale dei musei, con eventi al Castello di Gambatesa, al Pandone, al Museo archeologico di Venafro, al Sannitico di Campobasso, al Museo delle città e del territorio di Sepino. Dieci i siti gestiti dal polo. Tutte le informazioni sono sul sito musei.molise.beniculturali.it. Tra gli eventi più originali, un concorso fotografico e di storytelling sul paesaggio del Molise e, il 31 maggio al Paleolitico di Iserni e il primo giugno al Museo Sannitico di Campobasso, percorsi di visita tattili per i non vedenti, realizzati nell'ambito della convenzione di partenariato, siglata a dicembre con l'UICI. Sono state presentate al Conservatorio Perosi di Campobasso l'ottava edizione del Festival delle Percussioni e la quarta edizione del Premio Internazionale di Composizione Audiovisiva Marzio-Rosi Festival, che si svolgerà dal 4 al 7 maggio tra la Cattedrale, gli Auditorium del Conservatorio e la EXGIL e il Teatro Savoia. Sentiamo Tonino Danese. Il corpo come strumento primordiale, il movimento come rappresentazione teatrale di suono e ritmo e il gesto come atto funzionale, la qualità del risultato musicale. Su questo si impernia l'ottava edizione del Festival delle Percussioni che si terrà a Campobasso dal 4 al 7 maggio, organizzato dal Conservatorio Perosi. Momenti musicali intervallati da conferenze, masterclass e laboratori che si svolgeranno in 4 giorni dal mattino tra la Cattedrale, l'Auditorium del Conservatorio e quello dell'EXGIL e il Teatro Savoia. Abbiamo dei concerti importanti che si terranno a Savoia, uno dedicato il sabato 6 mattina alle scuole dove il Festival incontra le scuole, poi il 6 la sera per il pubblico e il 7 domenica sera, sempre a Savoia per il pubblico dove ci sarà la serata finale che avrà anche nel cuore della serata la premiazione del vincitore della quarta edizione del premio internazionale per composizioni audiovisive dedicate a Marzio Rosi. Un festival di livello internazionale con gemellaggi, con conservatori e collaborazioni con l'Istituto Tecnico Marconi e quest'anno con la Style Dance Royal Academy Ballet School del capoluogo. Quest'anno gli ospiti di questa edizione sono il Conservatorio di Pamplona della Spagna, il Conservatorio di Venezia, il Conservatorio di Messina e il Conservatorio di Salerno e poi il Conservatorio di Campobasso. La nostra soddisfazione di questo festival è che l'attività nasce all'interno dei conservatori, della rete nazionale e internazionale dei conservatori italiani ed europei. Il Conservatorio Perosi ha sottolineato il presidente Giovanni Cannata da grande importanza a eventi come questo. E' importantissimo far sì che i nostri studenti si confrontino con gli studenti di altri conservatori ed è questo che si fa in occasione di questa iniziativa. E' importante che il territorio senta il Conservatorio come cosa sua, come una delle istituzioni di alta formazione che innervano il territorio stesso. Un Conservatorio che lavora bene, è stato evidenziato e con qualità. Di recente qualcuno ha detto che il Conservatorio di Campobasso era uno dei conservatori in crisi, è un'informazione assolutamente sbagliata. Il Conservatorio di Campobasso, come tutti i conservatori italiani, rientrerà in un programma che il ministro Fedeli sta sviluppando in questi tempi di riorganizzazione del sistema dell'alta formazione musicale. Ovviamente, se il territorio sentirà fortemente suo a questa istituzione, questa istituzione sarà presidiata e continuerà la sua vita e la sua utilità, diciamo, anche di formazione e divulgazione. E ora vi raccontiamo la storia di Pasquale, un pensionato campobassano che ha deciso di dare testimonianza in TV della grave condizione economica in cui versa la sua famiglia. Un appello affinché qualcuno possa dargli una mano a trovare una soluzione. Il servizio è di Silvia Valente. Lei è qui oggi per raccontarci una storia, la storia della sua famiglia che sta attraversando un momento difficile. Io ho una famiglia, il mio genero è rimasto senza lavoro da cinque anni e quindi ha avuto un po' di cassa integrazione quando è stato licenziato. Però oggi come oggi, dopo cinque anni, la regione ha avuto soltanto un anno, un anno e mezzo di cassa integrazione. Poi niente più. La regione nel 2015 ha dato soltanto cinque mesi e niente. Come si fa a tirare avanti una famiglia? Io, ripeto, ho la pensione, sono in pensione da 18 anni e sto accolando il carico di tutti perché giustamente sono figli e devo tirarle avanti. Lui ha 60 anni, va di andare secondo la legge a 66 anni. Come fa a campare una famiglia a 66 anni? Io ho la famiglia che li metto in mezzo alla strada. Io, ripeto, prendo una pensione, però giustamente il carico è pesante perché non è solo il maggiare, ma ci sono le pollette, ci sono tutto il resto. Quindi è tutto l'indotto praticamente che ti pesa sulle spalle. È una situazione pure anche per lui. Dignitosamente non è giusto che deve sottostare sempre, non sottostare, sempre o qualsiasi cosa, chiedere a me questo, questo e quell'altro. Insomma, anche se ne va di mezzo la dignità, queste ci hanno fatto perdere la dignità. Una situazione che accomuna purtroppo oggi molte coppie, che sempre più spesso ricorrono all'aiuto dei genitori, le cui pensioni però non sono sufficienti ad affrontare le spese quotidiane. Quello di Pasquale è quindi un appello per cercare di trovare una soluzione. Quindi se c'è qualche ditta disponibile ad assumere il mio genere per qualsiasi lavoro, anche come in Bianchini, perché lui sa fare tutto, quindi sarei molto felice e ne sarei grato alla ditta che lo assumerebbe. È stata dedicata a Giuseppe Altobello, medico, poeta e naturalista di Campobasso, una targa di marmo per rendere omaggio al prestigio e agli studi realizzati. Altobello, vissuto tra il 1869 e il 1931, ha svolto numerose ricerche portando al termine particolari studi sulle sottospecie di orso marsicano e lupo appenninico. La targa è stata presentata a Campobasso all'Istituto Comprensivo Dovidio durante un convegno. E ora parliamo di un'istituzione presente sul territorio molisano, la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. La scuola, dopo l'accorpamento della Legione Carabinieri Molise alla Legione Abruzzo, ha subito una prima azione di potenziamento destinata ancora a crescere in futuro. Ci dice tutto Valeria Farina. È una realtà consolidata, una risorsa e il fiore all'occhiello per la formazione dei militari. La caserma Eugenio Frati di Campobasso, da oltre 40 anni, prepara i giovani che entrano a far parte della benemerita in un contesto fatto di storia, cultura e tradizione. Questa è una realtà molto importante per l'Arma dei Carabinieri. Come ha detto giustamente lei, è una delle cinque scuole allievi carabinieri. Sono la scuola inserita nel contesto gerarchico della Legione Allievi Carabinieri, che è appunto il nostro comando che inquadra le cinque scuole. Le altre scuole sono a Reggio Calabria, a Roma, a Torino e ne abbiamo anche una in Sardegna di Iglesias. Questa di Campobasso è una realtà importantissima e la sua principale vocazione, perché così è nata, è quella di formare, per quanto riguarda l'Arma, gli allievi carabinieri, cioè i ragazzi che una volta frequentato il corso di 11 mesi all'interno di questa scuola poi verranno destinati ai reparti operativi. Oltre 200 sono gli allievi del corso che si sta svolgendo in questo periodo e che terminerà ad ottobre. I ragazzi, guidati da ufficiali e sotto ufficiali, nelle attività previste per la preparazione alla vita militare, ogni giorno affrontano discipline che vanno dal diritto all'attività fisica, dal tiro a segno fino all'informatica e all'inglese. Agli allievi carabinieri fondamentalmente un insegnamento è fondamentale, che è quello dell'etica, l'etica del carabiniere. È l'insegnamento per noi centrale, fondamentale. Non si può essere un buon carabiniere se non si apprendono quei valori di formazione morale, solidi, che consentono poi un corretto esercizio delle capacità professionali. Ovviamente a questa sono abbinate le materie professionali, la tecnica professionale, le conoscenze di diritto penale, di procedura penale, gli aspetti pratici legati alle esercitazioni con le armi, tanto in bianco quanto a fuoco e tutta un'altra serie di materie che arricchiscono il bagaglio professionale carabiniere. Dopo l'accorpamento della legione carabinieri molise all'Abruzzo, la scuola allievi di Campobasso ha già subito una prima fase di potenziamento nel numero di allievi, dato destinato a crescere ancora. Per ora abbiamo fatto corsi con numeri relativamente contenuti di allievi. Sicuramente il futuro vedrà questa scuola crescere ancora e già dal prossimo corso il numero aumenterà sensibilmente perché arriveremo ad avere un corso di quasi 400 unità, anzi sicuramente intorno alle 400 unità se non di più. Amore per la patria, valori militari e sicurezza trasfusi nei giovani carabinieri in un percorso che accompagnerà i militari per tutta la vita. Cena a concerto con Edoardo Vianello domani sera a Bastomarina. L'appuntamento con uno dei più famosi, tra l'altro, protagonisti della musica leggera italiana è alle 20 presso il ristorante La Ciuculella. Lo spettacolo di Vianello sarà l'occasione per ripercorrere 50 anni di carriera suggellati dai successi quali, abbronzatissima, Ivatussi guarda come dondolo. Termina qui l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise. Vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete la nostra informazione. Buonanotte. Buonanotte.